Buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione DCS con la V maiuscola ragazzi ricordatevi sempre bisogna scegliere ipnosi o di ipnosi DCS vera e professionale perché di ipnosi fuffa, ipnosi paura, ipnosi da spettacolo, ipnosi conformista e commerciale il mondo è pieno anche in America che non va bene bisogna ragionare per risultati e non per rilassamento. Detto ciò oggi voglio parlarti per chi non è l'ipnosi DCS vera e professionale, l'autoipnosi, beh non è per chi sa tutto per i saccenti, per chi ha paura, per chi è pieno di sensi di colpa e che non si rende conto a livello consapevole e razionale che non vogliono inconsciamente la soluzione, hanno paura di cambiare perché vogliono punirsi, autopunirsi ecco perché il mio metodo, metodo DCS di autoipnosi, ipnosi DCS vera e professionale ti consente se abiti nella stessa casa con un tuo caro di utilizzare le parole ipnotiche ad hoc del sottoscritto della mia associazione di ipnoleggi associati di Los Angeles Beverly Hills anche per un tuo caro che è pieno di sensi di colpa per cui sensi di colpa uguale punizione come facevano i genitori un tempo non vuole l'aiuto, non vuole girare cappelle, non vuole andare da nessun guru, non vuole niente di niente per cui puoi aiutarlo veramente a eliminare il suo problema atavico anche con un solo audio mp3 DCS di ipnosi, autoipnosi DCS vera e professionale. Perché ti racconto tutto ciò? Perché a me piace la pratica a me piace raccontarti le mie esperienze personali di più di dieci anni, diciamo quasi dodici da quando mi sono certificato ipnoterapist, esperto di ipnosi, professionista di ipnosi DCS vera e professionale a Los Angeles Beverly Hills con la dottoressa Rina Brunini e il professor Garai che trovi su internet due grandissimi dell'ipnosi mondiale anche se poco pubblicizzati e conosciuti come Milton Erikson, Dave Hellman o Brian Weiss perché non significa che uno non è conosciuto ragazzi e non abbia valore, perché può essere il più grande artigiano che fa certe opere d'arte, certi mobili ma non pubblicizzato, marketing, pubblicità e reale valore sono due cose diverse. Senza nulla togliere al grandissimo Milton Erikson, al grandissimo Dave Hellman, al grandissimo Brian Weiss che io ho studiato, ho fatto miei da quando ero autodidatta nell'ipnosi dove ipnotizzavo in gruppo anche sulle spiagge, sulla strada eccetera eccetera, parecchia gente in Italia e all'estero per cui ritornando a noi, tu con l'ipnosi DCS vera e professionale puoi aiutare te stesso e gli altri non perdi tempo, non metti la tuta, non vai in giro a girare cappelle, se ti trovi al polo nord puoi sempre ottenere risultati, se e solo se, segui le mie istruzioni, ok? Per cui non devi credere, devi fare ricordati che l'ipnosi non ha nessun effetto collaterale che ne dica qualche guru, può vederlo anche sulla rivista scientifica internazionale The Lancet o Life, per cui non devi credere a me, devi guardare i fatti veri inoltre è riconosciuta come medicina alternativa dell'Associazione Medica Mondiale nel 1958 che l'ha sdoganata dalla ciarlataneria, dalla magia dove era caduta l'ipnosi nell'arco dei secoli e anche la chiesa con papo Pio IX nel 1847 l'ha sdoganata, riconoscendolo, ok? Invitando al Vaticano, nella sede di Napoli, un certo Auguste della Fontaine che girava tutta l'Europa toccava i ciechi, i ciechi vedevano, toccava i paralitici, i paralitici camminavano, toccava i sordi, i sordi ascoltavano di nuovo, toccava i lebrosi, la pelle tornava chiara e pulita come prima e disse Papa Pio IX a Auguste della Fontaine, va bene che tu allevi le sofferenze dell'umanità, basta che non scimmiotti i miracoli di Cristo, ecco perché oggi nel 2020 in tutto il mondo, adesso anche in Italia, l'ipnosi la trovi anche negli ospedali, soltanto per l'anestesia, per togliere i dolori, da sottoporre poi il paziente ad operazione anche di alta chirurgia, ma non solo, è che l'ipnosi si usa sul corpo, sulla mente, sui comportamenti, sull'azione, sulla vita visibile e invisibile, che ne possa pensare qualche luminare della scienza moderna. Poi a me piace parlare con i fatti, io ho molta attività in Italia e all'estero, non devo mangiare, grazie a Dio, con questi audio, con questi video, ci ho messo dieci anni per mettere la mia faccia su questi schermi, su questi monitor e lo faccio per sdoganare l'ipnosi vera professionale, a prescindere dal lato economico che esiste anche nella mia associazione di ipnosi associati di Los Angeles Beverly Hills, ma la mia mission, la mia missione è quella di sdoganare l'ipnosi e renderla accessibile a tutti, sdoganarla dal giocas casella, dall'ipnosi da spettacolo, dalla paura e dalla manipolazione, ok? Per cui ti invito veramente ad approfondire l'argomento. Fammi tutte le domande del caso, ti risponderò gratis, gratis, compatibilmente, mi impegno ai miei tempi, dovunque tu ti trovi in Italia e nel mondo, io ti risponderò, scrivi a ipnosi associati, chiocciolalibro.it oppure sui social e anche se non faccio consulenza, ripeto, ti rispondo gratis e visita anche sulla mia fanpage su Facebook ipnosi, autipnosi del dottore Claudio Saracino, visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com, iscriviti a questo canale YouTube, benessere ipnosi, soluzione di cesta del dottor Claudio Saracino e fa share, condividi con amici, parenti e ti piace ciò che dico, perché può essere quella molla, quel quid che gli cambia la vita, come è successo a me tanti anni fa, perché io ero, ero uno studente lavoratore a Modena senza una lira in tasca ragazzi, ok, con mille problematiche che hanno i giovani, ansia, depressione, mal di testa cronico, mi lampeggiavo il petto per quest'ansia, avevo asma, tutto di più frustrato, negativo, burbero, bla 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 bla, senza una lira in tasca, ripeto, ho fatto mille lavori umili, per cui stai sfondando una porta aperta, adesso la mia vita è cambiata, grazie alla mia mente e soprattutto all'ipnosi di cesta vera e professionale che io ho coniato. E poi visita anche i miei profili Instagram e Twitter, benessere ipnosi, soluzione di cesta del dottor Claudio Saracino. La differenza enorme del mio metodo, che proviene ancora una volta per il 90% dalla dottoressa Brunini, è che puoi utilizzarlo anche contro la volontà e sempre a fin di bene, per un tuo caro che sta buttato nel letto e che abbia 4 anni, 6 anni, 20 anni, 50 anni, 80 anni o 120 anni, ok? Devi soltanto ascoltarmi, seguire la lettera e l'istruzione, trattasi di parole semplici ma potentissime suggestioni ad hoc di un antico sapere e tu cambi la tua vita e quella del tuo caro. Un bacio, un abbraccio dal dottor Claudio Saracino e alla prossima.